Ciao ragazzi, sono Oluwitch e sto registrando, come ho detto, questa puntata subito dopo la prima perché voglio portarmi in avanti con un po' di impegni. In ogni caso, siamo appena tornati dal ristorante, è stato un emerito disastro, è stato un disastro. Non ho scuse, ma questa gente continuava a non volersi sedere. Comunque una cosa che ho notato è che gli agenti segreti che ci hanno sequestrato il frigorifero ci hanno lasciato questa strana nota per terra, la leggiamo, abbiamo anche la torta, la mettiamo in frigo. Tra l'altro mi piace come la torta di frutta qui non scada mai perché il cibo in The Sims, voi lo sapete che ha una scadenza, marcisce prima o poi, ma la torta di frutta, quella brutta, quella ewe, quella che nessuno vuole mangiare, non scade mai, quindi dobbiamo finirla per forza, dobbiamo buttarla e noi non la finiremo perché sì. Ah, ok. I tuoi amichevoli agenti segreti del quartiere ti informano che è stata rilevata un'infezione nel tuo frigo, quindi ce lo siamo presi. Molto bene, la lasciamo lì o mettiamola nel posto d'onore, tipo qui. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Eva, tu non hai proprio bisogno dei compiti perché tu sei un'adulta adesso. Oh, fuck. Ok, l'Ark ne aveva bisogno invece. L'Ark infatti se li andrà a comprare, come si comprano? Qui. Ok. Ah, non sono tra gli schizzi. Shhh, mostra tutto. Prezzo. Ecco qua. Uno, grazie. E ce lo prendiamo dalla libreria perché l'Ark va ancora a scuola. Ogni tanto mi dimentico che l'Ark va ancora a scuola. Eva invece no, Eva ha bisogno di un lavoro. Il mio gatto sta sempre dormendo nella scatola del microfono. Eva diventerà una pittrice, come ho già detto. Dunque, ragazzi, so che è noioso, so che ci sono tante altre carriere nuove, ma voglio esplorarle con altri simmini in realtà. Eva, voglio dire, Eva ce la vedo come una pittrice. Perché ogni... Perché tutti quei soldi? Ok, ha cominciato a... Ottimo, ok. È al lavoro tra quattro giorni. Bellissimo. Voglio dire, niente da dire. Tra l'altro, una cosa che non ho fatto è di settare i tratti della casa. Direi, 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 direi di farla homey. Quindi ci aiuterà a sviluppare la skill di cucina, mixologia, bla 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 bla. Internet veloce. Non saprei. Non saprei proprio. Magari suggeritevi il terzo tratto, così lo metto. Però là, non lo so. Comunque. Cosa stai facendo? Oh no, ho messo la cosa dei popcorn invece che del gelato. Eva. Eva, Eva, Eva. Eva, dolce Eva. Levati. Errore mio. Pensavo di mettere la macchina del gelato. E invece ho messo quella del popcorn. A chi serve il popcorn, voglio dire, nel gioco? Io. Meglio il gelato. Comunque. Eva al lavoro tra quattro giorni. Avriel tra tre. Lui. Lui. Ark. Non lui. Non sono super kick. Comunque. L'Ark tra tre giorni. Deve fare ancora i compiti. È a fame. Voglio dire. È appena tornato da un ristorante. Ma suppongo. Suppongo può. No. Non prendere il cibo avanzato. Non prendere il cibo. È una porta di frutta. Mangiati tipo. L'insalata. Voglio dire. È uno youtuber. Deve stare a dieta. Comunque. Eva. Sapete a cosa stavo pensando in realtà? Che Eva potrebbe. Non oggi. Perché? Voglio dire. Non adesso. Perché adesso è mezzanotte. Pure. No. Ok. Pure Eva ha fame. Bene. Bene. Eva mangia ti tu. Voglio dire. Anche tu. Un'insalata. Perché. Voglio dire. È mezzanotte. Fa male mangiare pesante di notte. Comunque. Appena svegli. Credo che. Eva andrà a far visita alla nonna. Tipo. Voglio dire. Alla nonna. Intendo. Katrina Caliente. Andremo dalle sorelle Caliente. Credo. Credo. Non lo so ancora. Può darsi. Perché vi state fissando? Lark ti spezzo il collo. Ti giuro. Ok. Eva. Ok. Torna a fare quello che stavi facendo. Sapete? Cosa mi sono ricordata? Che non ci sono le ceste per il bucato. In questa casa. E voglio dire. Ci sono le lavatrici. Quindi. Io direi di usarle. Usarle. Quindi. Dove possiamo mettere la cesta? Perché qui non c'è spazio. Voglio dire. È poco ma sicura. Qui. Forse. Voglio dire. Possiamo. Questo. Questo di qua. Una. Ce ne serve almeno un'altra. Ok. Perfetto. Qui ce n'è uno. Ovviamente qui non c'è una. Qui non so neanche cosa ci va. Comunque. Bene. Lark. Vedio. Perché sono così lenti? A reagire. Più che altro. Non sono lenti. Perché il gioco lagga. Mi sono assicurata di prendermi un pc da gamer stavolta. Li uccido tutti. Probabilmente. Molto probabilmente sì. Perché prima o poi mi romperò le palle. Onestamente. Non lo so. L'insalata è pronta. Ti prego. Ti prego. Dimmi che è pronta. Dobbiamo cenare. Domani dobbiamo far visita alla nonna. Sono le due di notte. Per l'amor del cielo. No. Non puoi direla. Lark morire. Già l'odio. Già l'odio. Non fa parte neanche di questa famiglia tecnicamente. Voglio dire. Dina Caliente avrebbe dovuto affogarti nella vasca da madonna. Non è vero. Sono cattiva. Sono cattiva. Lark fa parte di questa famiglia. È il nostro preferito. Non è vero. Non è vero che è il nostro preferito. Non è neanche il mio preferito. Voglio dire. È Jude il mio preferito. Prima o poi giocheremo anche con Jude. Tra l'altro Jude vive nella casa con un altro simmino che conoscete. Lark prenditi un... Cosa. A casa mangiate. Mi piace come a casa questi deficienti mangiano. Ok. Ok. Finalmente stanno mangiando. Ho cambiato i vestiti ad Eva perché Lark continuava a triggerarsi. Non so perché. Mi sa che io dovrò togliere quella... Quell'abito. Vi ripeto ragazzi. Non so perché. Non ne ho la più pallida idea. Se qualcuno... Magari dovrò eliminare proprio quel materiale personalizzato. Perché non lo so. Magari risulta nuda. E io non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Ma non voglio che tutti quanti appena vedono Eva si spaventino. Perché... È una ragazza adorabile. Perché qualcuno dovrebbe spaventarsi. Lark è da prendere a schiaffi. Tra l'altro è mattina. Ragazzi vi rendete conto? È l'alba. E loro sanno ancora mangiare l'insalata. Io volo nell'iperuraneo. Onestamente. Volo nell'iperuraneo. E sto registrando da tipo 2-3 ore. Più o meno. Non lo so. Dovrò eliminare un bel po'. Un bel po' di roba registrata. Il mio software impazzirà. Tra l'altro uso Sogni Vegas. Impazzirà. Impazzirà sicuramente. Mi piace come l'unico adulto responsabile si sia fa... Ok. Ok. A quanto pare l'unico adulto responsabile non solo si sia fatto una nottata di sonno come si deve ma l'abbiamo beccato che piangeva sotto le coperte. Quindi adulto responsabile. Ho ragione ragazzi. Ho ragione. Ancora dobbiamo risolvere il mistero di Strangerville. Ma non voglio farlo subito. Voglio dire voglio inoltrarci un pochino di più nella trama. Tra l'altro vedete questa casa? Questa è la casa del sindaco. Insomma. Il tipo pazzo col cappello da cowboy che cammina in giro. È casa sua. Secondo la lore sarebbe il sindaco di tutto questo posto. Io ho dato... Cioè voglio dire qui vive lui. Ci abita sua moglie. Io segretamente gli ho dato anche un paio di figli. Tra cui ce n'è uno. Bello sto parco. Grazie. Grazie a Nelle. Grazie. Comunque. Io segretamente ho dato un paio di figli. Per cui. Magari. Ad un certo punto potremmo conoscerli. Non lo so. Magari l'arc potrà andare a incontrare il figlio del sindaco. Perché l'arc mi sembra il tipo che sapete si prende la cotta per il belloccio della porta accanto. Prenditi l'insalata. Avril. Non ti incastrare nel gioco per mezza giornata mi raccomando. Ma sei cogliona. Dormi. L'arc. Coglione parte 2. Il lavoro di Avril gli dice di raccogliere i voti. Ma io potrei anche farlo. Voglio dire. Non c'è problema. Ma. Ragazzi. Non c'è nessuno. Non abbiamo gli elettori. Createmeli. Ragazzi. Createmeli. E condivideteli all'hashtag. Bachelore Legacy. Qualcosa. Qualcosa. Comparirà qui sopra. Ah giusto. Dobbiamo ancora scegliere la causa. Alberi. No. Meno cattiveria. Soldi per tutti. No. Facciamo mondo unito. Ci piace. Ci piace il mondo unito. Ci piace il mondo unito. Vedo qualcuno. Vedo la nuvoletta del pensiero. A del sindaco. Non possiamo. Voglio dire. Non possiamo chiedere a lui. Lui è. Posseduto. Ok. Non fa niente. Chi è quello che si sta allenando? Nancy Landgraab. Ok. Ok. Va bene. Sapete cosa vi dico? Andiamo a trovare la nonna. Neanche mi interessa a questo punto. Dove abita la nonna? In Oasis Springs. Ok. Ok. Ci andiamo solo con Eva. Magari. Le Caliente. E' uno che qui vive Don Lotario. Tra l'altro ci serve anche un boyfriend per Eva. Ma tipo assolutamente. Non assolutamente. Portiamoci dietro Jude. Perché voglio dire. Jude è il mio simmino preferito. Perché non mi dà mai problemi. Io pensavo di puntare appunto su Don Lotario. In quanto sapete che le sorelle Caliente hanno un debole per Don Lotario e viceversa. Eva in fondo è una sorella Caliente. Non sorella. Ragazza Caliente. Figlia Caliente. Nipote Caliente. Questa sì. Le Caliente vivono qui. Il mondo deve ancora condividerlo. Non so come ragazzi. Se sapete come si condivide il save file. Fatemi sapere perché ci tengo a condividere con voi. Questa partita. Catrina. Brillante. Non brillante. Impeccabile come al solito. Con Nina. Mi piace come anche se nostra nonna non la conosciamo ancora però. Suppongo che vada bene così. Vuoi dire nostro padre è morto. Lei è ancora triste. Lark. Prenditi cura di te stessa. Anche tu. Avriel. Comunque. Core mio. Perché entrate da dietro? Capisco. Capisco. La porta d'ingresso è quella dietro. Ok. Ok. Suppongo. Chi è? Non ci interessa. Devo smetterla. Smetterla di distrarmi. Perché siamo qui. Mi piace come siamo in palette. Voglio dire. Caliente legacy ragazzi. Dimenticatevi di Bachelor Legacy. Caliente legacy qui. Bianco, nero e rosso. Vediamo. Cosa possiamo chiedere alla nonna? Conosciamola meglio. Tanto per cominciare. La prossima cosa che le chiederemo sarà come si trova marito. Possibilmente ricco. Voglio dire. Possibilmente ricco. Fa lei un complimento sull'outfit. Perché voglio dire. Catrina Caliente. La matriarca. Sì nonna dicevo mi sono abbinata al tuo vestito ma a te sta meglio o qualcosa del genere. Discuti sulla carriera. Discuti sulla carriera. Ragazzi. Cosa divertente. Ho litigato domenica scorsa con mia nonna riguardo alla mia carriera. Perché lei ancora deve accettarlo. E ancora non è d'accordo sul fatto che io faccia l'illustratrice. Nonostante sia un vero e proprio lavoro. Voglio dire. Non faccio i disegnini ormai. E mi spaccio per disegnatrice. Io illustro cose. Sono una professionista. Una professionista qualificata. Con un contratto. Ma mia nonna non è ancora contenta. Perché ce l'ha ancora con me. Perché ho lasciato l'università a quanto pare. Vabbè. Non discuteremo con Catrina Caliente del nostro lavoro. Perché mi piace pensare che Catrina Caliente sia un po' più progressista di così. Oh no. Chiedi un consiglio a Jude. E poi abbraccialo. Abbraccialo. Possiamo abbracciarlo. Voglio abbracciarlo. Perché Jude è il mio simbino preferito. Tra l'altro Jude è un po' un donnaiolo. Diciamo. Voglio dire. È ispirato a Nathaniel. Della mia famiglia King. Che aveva una tresca con Bella Got. Voglio dire. Jude qui non può avere una tresca con Bella Got. Perché Jude è suo nipote. Fondamentalmente. Ma credo che avrà. Tantissime e tantissime amanti. Non lo so ancora. Vedremo. Voi continuate a condividere i simbini. E vedremo di compilare qualcosa. Oh no. Ricorda un ricordo. Non ricorda. Sì. Ricorda un evento imbarazzante dell'infanzia. Sì. Quella volta che ti sei fatto la pipì addosso. No. Eva. Non è mai successo. Tu ti eri fatta la pipì addosso. Io non mi sono mai fatto la pipì addosso. Infatti. Eva. Non so neanche come si fa la pipì. Ok. Sto sclerando. Sto sclerando. Possiamo farci un tuffo nella piscina? Forse. No. No 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 no. Forse potremmo chiamare... Io. Potremmo chiamare Avril a raccogliere i voti ma... Non mi va. Onestamente. Perché Auriel sta ancora aspettando la sua anima gemella. Voglio dire. Auriel. 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 Avril. Lui. Il fratello maggiore. L'ho creato perché... Per prendersi cura della nostra famiglia. Perché nessun altro lo fa. Perché voglio dire. Dina Caliente vive la sua vita migliore. E... Eva sta impazzendo. E... Il padre è morto. E... Dina? Ciao Dina. L'unico... Dicevo. L'unico adulto responsabile di questa casa. Piagge sotto le coperte. Comunque. Ok. Privacy. Comunque. L'arc. Si farà la doccia. Perché puzza onestamente. E poi andrà a... Stalkerare i vicini. Da solo. Con la mamma. Io. No. Con frate... No. No. Da sola. Da sola. So via l'arc. Perfetto. Ragazzi. È proprio un figo. Il figlio dei vicini. Il figlio del sindaco. Voglio dire. È un figo. Dieci su dieci. Uno dei miei simili preferiti. Si chiama... Non mi ricordo. L'ho creato io. Giuro. Ha due sorelle. Che si chiamano... Neanche mi ricordo. Park. Ok. Io direi... Devo starduttire. Devo starduttire. Devo... Ok. Non... Ok. Questa è la madre. La salutiamo però. Io onestamente... Ok. Fa niente. Fa niente. Sono... Sono tutti fuori. Eccolo qui. Voglio dire come si chiama. Scott. Scott Roswell. In tutta la sua... Bellezza. Bruttezza. Voglio dire... Voglio che apra gli occhi. Ragazzi. Volevo uno screenshot. Volevo un... Oddio di screenshot. No. Ragazzi. I selfie mai dal basso. Comunque. Ok. No. 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 Scott. 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 Saluta l'Arc. Sarete migliori amici. Ne sono sicura. Forse... Forse qualcosa di più. Forse. Non lo so. Forse. Forse Scott finisce per innamorarsi di io. Sapete. Eva. O forse no. Oh mio dio. Lamentati della vita ingiusta. Sì. Perfetto. Perfetto. Uh. Perché non posso entrare in questa casa? Cioè io vedo gente all'interno della casa. Vedo Rosalie e poi vedo Mia. Si chiamano così le sorelle di Scott. Ok. Sì. Fai i complimenti per... ...sta t-shirt. Una screenshot. Una. Una. Chiedo una screenshot. Comunque. Abbiamo conosciuto Scott. Scott piange dalla felicità per averci incontrato. Lark. Basta cantare. Madò. Che diva. Che diva. Oh no. Il sindaco. Il sindaco nudo. È pazzo. Pazzo e nudo. Ok. Ok ragazzi. Credo che la puntata sia giunta alla sua morte naturale. Perché non ci fanno entrare in casa. Non ci vogliono. Ragazzi. Semplicemente non ci vogliono. Va bene così. Anche se voglio dire. Lark è una celebrità. Presentiamoci a questa gente. Vale non fa. Chi è questa? Ok. Rosalie. No. Mia. 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 È la sorella maggiore. È molto carina. Sto pensando che magari... Sì. Tutta suo padre insomma. Tutta suo padre. Comunque stavo pensando che magari... Mia potrebbe... ...incontrare... ...Avriel. Ad un certo punto. Mentre Scott qui... Qui socializza con l'Arc. È Rosalie. Si chiama Rosalie Roswell. Mi sento così. Smart. E intelligente per averci pensato. Con questo abbraccio credo che concluderò la puntata. Non so per quando li editerò. Non so ancora quando avrò il tempo di editare tutto. Ma spero il più presto onestamente. Perché non vedo l'ora di condividere con voi questo... Questo gameplay. In ogni caso ragazzi è stato un piacere sentirvi. O voglio dire... Parlarvi. In ogni caso voglio dire... È un po' un dialogo. Monologo. È un po' un monologo a senso unico. Comunque. È stato un piacere ragazzi. Alla prossima.